con cari allusia posso dire una cosa velocissima prima stavamo discutendo con avi stavamo discutendo con avi quale brano potessimo fare per le esibazioni allora io gli ho fatto vedere la lista di tutti i brani che abbiamo in repertorio e gliene ho proposto uno che è un brano che è stato suonato da un sassofonista italiano che è registrato in Germania, si chiamava Tullio Mobili e la cosa che mi ha impressionato è sempre bello vedere che dei professionisti della danza abbiano a cuore così tanto la musica lui mi ha chiesto il titolo del brano e mi ha andato a ricercare la recensione originale e l'ha sentita attentamente insieme a Lucia proprio per cercare di arrivare a dire la sua su questo brano insomma volevo dirlo perché è una roba veramente dalla dimostrazione di quanto anche questi bravissimi ballerini ci sono dei maestri internazionali insomma ci tenono veramente tanto alla musica grazie a tutti 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 grazie a tutti